Questo è il mazzo Gold Monarch Buongiorno ragazzi, benvenuti a un nuovo video Oggi si va a Roma, andiamo, veloci Ciao ragazzi, sono appena arrivato a Roma con Oscar Ciao ragazzi Ciao Mamma mia che stanchezza Il volo di oggi è andato stravere perché mi sono addormentato tutto il volo Con una tipa a fianco Si è ancora una tonapera questa No no, con una tipa a fianco che russava Ma tanto anche Oh c'è un palo Questa è proprio la macchina dei maghi Perché tu fai così, sacca e ti lavi le mani Vedete una vera magia? Vai No, per chi è cecato ragazzi Mi sono lavato i capelli con lo shampoo ultra liscio E sono usciti tutti lisci Comunque sono arrivato a Roma, che bello Pieno di traffico Adesso stiamo andando a pranzo, ho una fame allucinante Voglio mangiare una bella amatriciana Nel frattempo c'è Oscar che sta lucchettando la macchina E fa bene Allora vediamo un po', fammi vedere qualcosa Vai Questa è la magia più lenta del mondo Ok Perché tu tocchi una di faccia Perché tutti i maghi te ne fanno sempre scegliere una di dorso, no? Si Io te ne faccio scegliere una di faccia e mi levo il pensiero Così già la so Tocca una Ok Questa Questa magia come un dito solo Re di cuore in mezzo Nel momento in cui tu gli dici di salire Fai sale Direi che buono Finissimo Adesso la fai tu, dai, così magari Si vede, no? Vai Spingila Vai vai C'è la spingo così? Si si E sale No? È salita qui in alto? No È molto più in alto Questo bisogna farlo a quelli dell'agenzia delle entrate Non ci mettiamo Tutte le carte Torna con le borse Tutte Trane una Che carta era? Due di fiori E due Buongiorno 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 Sono Jack Nobile E oggi vi racconterò una storia Sono qui Nella stanza di Oscar A dormire sul divano letto Con il suo incubo peggiore Esatto Con la paura dei cani Però è andata bene Sono contento Adesso puoi liberare Le bestie Ah vogliamo fare l'incontro ravvicinato Ok Soprano Possiamo mangiarmi Attenzione Questa qua è un'anteprima mondiale Oh cazzo Dai non puoi fare queste cose Però anche tu Dai Ciao cane Ciao No porca Va bene Oddio Dai Oscar ti prego Che poi si ammazzano tra di loro E' stata una giornata fantastica ieri Siamo andati da casa di sua mamma A casa di suoi parenti Siamo stati assieme Eccolo qua lo zio Che gioca Devo portare i cani dentro Ok Io c'ho stra paura dei cani Infatti il risveglio di stamattina è stato terribile E sostanzialmente ieri ho fatto un evento qui a Roma È andato benissimo Grazie di cuore Ero molto stanco Ho anche sforato l'orario del centro commerciale Infatti mi volevano cacciare Però io tipo ho preso Ho fatto mettere il tavolino in mezzo al centro commerciale Ho fatto magia lì E quindi sono andato un po' contro le regole Però vabbè Per voi questo è altro Caspita sono le uniche volte che posso vedere Stare con voi in contatto fisico Almeno fatemi fare quello che voglio Io no ho capito E adesso andiamo a pranzo Veloci anche perché ho strafame Andiamo Oscar Volevo dire questa cosa qua Sul canale di Oscar Che vi lascio qua sotto Fa un giveaway Dove regala queste cuffie Come si chiamano? Sono casse della boss veramente Esatto E sono delle casse Se vi va andate a fare Andate sul suo canale E fate quello che dice lui nel video Sostanzialmente Stiamo andando a pranzo dove? Spetta tanta magia No Ma è sempre quella È vero Dove stiamo andando a pranzo? Alle due lune Nella terrazza più alta di Roma Non ho la minima idea di dove sia Questi sono i posti di Oscar Mi è appena arrivato la carbonara Lui mi sta già rubando una forchetta Oh ma zio stai male Oh ma zero Oh ma Siamo arrivati al lago, ci siamo fatti un bagno al lago, adesso facciamo un bagno in piscina, ci sta no? Ok, ora ti farò un gioco acquatico, incredibile. Allora questo è un quattro di fiori, si vede no? Singola, non è una doppia, ok? Zero doppie. Sotto acqua si trasforma e non è il tradituale. La predizione! Ci sono appena fatti un bel bagnetto, ci stava, parecchio figo. Adesso andiamo a giocare a ping pong. Guarda faccio questo gioco, non so se funziona però. Tu devi toccare due carte, quella che vuoi. Prendi due carte, ok? Sì. Falle vedere. Fai attenzione. Ah, Asso è donna. Faccio così. La spalla di lui. Visto? Vado? Sì. Dimmi un numero. Sì. No, no, toccare tre carte, scusa. Tocca tre carte. Fai quella che vuoi. Questa. Una, toccano un'altra. Questa. Due, toccano un'altra. Quella che vuoi. Questa. Ok, ok? Quella che vuoi. Quella che ti piace. Ok, falle vedere, ricordatele. Ok. Dimmi se ti piacciono, se non ti piacciono cambiamo, eh. Va bene, va bene. Ok. Quindi abbiamo un 10, un 8 e un 5. Metto le carte così. Si vedono, no? Metto le carte così. Vi dico la prima di sparire. È la prima a scompare. Allora, lo rifaccio. Faccio così, eh. Il 5 scompare. Fai attenzione. 8. Scompare. Sai perché? Non sai perché? Perché sono andate più o meno in mezzo. Oh, hanno anche catturato delle carte, vedi? Sì. Vedi che hanno catturato delle carte? Che numero avevi pensato prima? Sette. Sette? Sù. Sì. Ecco, scendendo, magari tornando indietro, perché lei quanto lo vede quando sta sulla strada principale, io che trovo adesso cascato nel monte gelato, e trovo dopo lì, eh. Oh. Bella giornata, bel pomeriggio, grazie di tutto zio, sei veramente un grande. Grazie di cuore. Adesso sconfiggerò la mia paura dei cani. Allora, ostia, sto paurissima, vi giuro raga, mi sto cagando addosso. Allora, aspetta, voglio fare il test. Pluto, seduto? Non è Pluto. Oh, si è seduta! Si è seduta! Eh, zampa? No, non leccarmi la mano. Zampa, per favore. Come, non posso dargli il microfono o mi dà la zampa? Zampa andrò da Dylan. Ah, ok, zampetta. Non, non me la dà. Oh! C'è la pulpetta! C'è la pulpetta! Ce l'ha fatta! Raga, lo state vedendo. Facciamo lo scherzano, zio Jack. a Zan 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 bellissimo timelapse.